Johnnie non si sentia più ho detto così è arrivato il mio fratellastro Sambuca sta alla scuola guida però lui non sa che io sto di fronte a lui imboscato nella traversina mo gli faccio lo scherzetto anche se non esco la guida a destra gira a destra e vedi mi vedi mi vedi mi vedi mi vedi mi vedi stacca 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 eh oh mo ci facciamo lo scherzo a mio fratellastro autista mio? lo chiamo io dai chiamo io a giga e così così no 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 qua così ci parli no ci voglio comunque raga non lo faccio venire al club ok però no infatti sì esatto non devo fare e devo stare attento a mio fratellastro là che quello non testa da capo e devo spiegare ancora delle cose quindi prima devo parlare a quello e poi parlo con giga e io le fanno imboscate ragazzi si ma lui non sa come sono vestito l'ho sentito tipo tre anni fa l'ultima volta eh non so se sta a fare la patente raga non so se facciamo qualche casino qua facciamo finta che lo rubiamo che lo rubiamo eh dopo sei caga tu vedi stai facendo la patente eh hai capito raga lo fate quello già ha problemi di cervello ma anche i cani ci facciamo anche il casino povero da povero gabbiano no comunque comunque il medico che secondo me quel ragazzo lo posso lasciare tranquillamente lascio direttamente all'ospedale raga lasciamo direttamente all'ospedale oggi che dite però il problema raga lo sapete già ancora non si può fa bang bang eh lo so come no no non si può finché non superiamo i die eh così almeno quindi che tengo a fare questo eh non l'hai capito per questo ve l'ho dato l'altra volta raga ma tutto sto tempo ci sta mettendo in realtà è un muscoletto spin non c'è più no si si è aperta comunque niente non ho controllato altre zone ma niente tutto vuoto è tutto vuoto nonno e comunque è tutto vuoto ho messo un piccolo pensierino dentro eh hai messo qualche altra foglia stronza ma vuoi vedere in doppio fondo comunque senti qua guarda guarda il tavolo che li vuoi vedere è chiuso apri ma no no controlla che se fosse una posta dentro il doppio fondo controlla come faccio a vedere quando il muscoletto per aprire il bagagliaio te lo ricordo eh da fuori non va muscolo OS M dovrebbe essere M no raga fuori da M non va eh fuori dalla macchina non va eh formula 3 no mi do la ranimazione ah ecco 4 ok qua eh si impappoggia con quell'altro porco dio giudi 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 sono per te quelli eh allora raga ma scusami io no 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 tanto lo sai già come sono fatto Johnny io non è che mi metto la poppipom e sparare le persone no 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 lo so lo so eh io dico ma eh appena che mi mettono direttamente come si dice eh 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 e non sono medico no che non sono medico perché mo sono ancora medico in effetti comunque ascolta ma stronzetto tu prima non mi avevi detto che non lavorai per nessuno eh ma vaffanculo almeno fammi capì cioè ti volevo dire una cosa importante prima quando l'ho assolto vaffanculo a te dica dica vabbè comunque l'ho detto comunque prima all'osservatorio la cosa importante che ti volevo dire prima però porca puttana fammi capì almeno ok se no non mi fido di nessuno quella è bella capito dopo non mi si è fida più di nessuno cioè allora di eh di Johnny e del signor Pablo mi fido ciecamente vabbè non ma anzi sono il primo che li chiamo ogni tanto pure birra 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 ma sta ancora lì no ma sta ancora lì eh allora birra posso dirglielo a lui raga Johnny posso dirglielo birra e group street no vabbè ieri sera stavamo parlando anzi no ieri l'altro ieri o ieri oh no no ieri o l'altro ieri birra ieri 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 vabbè oh è andata vai faccio zitto zitto video ma tutto a posto stiamo beh cazzo appunto sbagliare tutti gli errori per la sorte che c'è lui tanto secondo me si ha messo gli occhiali da vista troppo grande e vai tranquillo poi nudi riavvio raga dobbiamo e cazzo c'è marco e sambuca che sta a fare la patente ragazzi glielo dice andò antonio puoi mandare di me la al sindaco daniele dc che non fa non lo fa perché sta sambuca che si è bloccato dentro alla scuola guida ancora però quello è cazzo antonio e lui si chiama antonio e lui ha fatto una foto non fate le foto raga perché i poliziotti possono intracciare per i visi cazzo eliminiamo la foto ok quanti le virate quando gli ha fuso del bilibombos cazzo gli ultimi stagioni adorio è questa donna sambuca tre ore che si chiama dentro ma come messo ma che non in penna bene in penna e me non in pinnero ma scopri che a me come in penna vai vai fai vedere nonno ok 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 capito devi individi e ma capisce a me oh capisce a me c'ho una cosa Hebdo show in si aspetta nonno mi raccomando tieni un pugno ora poi posto poi altro ok nonnino nonnino è o prenda a zambuca e me lo porto al centrale dopo si faceva delle quello danni deve fare un attimino preka palace un blackout alla città volontaria momentaneamente cazzo e poi è messa la banchetta sotto il telefono una chiamata anonima cazzo 3 1 giletto no e temi di messaggio si può fare proprio capito vabbè dai allora se c'è blackout mi recupera il sambu come aspetto al centrale grazie a tutti eh ma dove non fai black out c'è un piccolo black out come oh 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 Grazie. 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 Grazie.